A Mirino il PGT, il piano di governo del territorio. A poche settimane dal voto del 25 maggio, la campagna elettorale pavese si fa sempre più aspra e a finire nel Mirino è ancora una volta il PGT, il piano di governo del territorio, adottato dal Consiglio Comunale il 20 dicembre del 2012. Un piano stravolto nella sua versione finale, come attacca l'Associazione Italia Nostra, che ha addirittura inoltrato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, assieme a Pavia Monumentale, al gruppo Insieme per Pavia. Se il PGT adottato nel 2012 si limitava ad interventi su aree libere, privilegiando la riqualificazione di ambiti già compromessi da precedenti trasformazioni edilizie, nella sua estensione finale, come si legge nel ricorso, abbandona il criterio della limitazione del consumo di suolo, stravolgendo nelle previsioni in termini sia qualitativi sia quantitativi, un recupero di edifici già esistenti dunque, ma una serie di interventi che provocheranno un aumento delle superfici edificabili di diverse migliaia di metri quadrati e l'ingombro di aree verdi fino a circa 13 ettari complessivi, un piano che, sempre secondo Italia Nostra, ignora sentenze del Consiglio di Stato, numerose norme e leggi di carattere generale, regionali e statali, ma anche la carta del restauro che configura i centri storici e i nuclei storici, quali organismi unitari da regolare in base a criteri di salvaguardia omogenei. Da qui la richiesta è di annullare l'attuale piano di governo del territorio, sulla cui validità è ora chiamato ad esprimersi Giorgio Napolitano.